Scusate Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cura bene lui, perché lui ha usato bene i pesi anche... Vedi? L'alza un po' prima e poi la raddrizza. E' questa che sta... E' questa... Dai! A parte che non hai toccato il davanti... Non è andata giù davanti. Devi toccare il davanti. Doveva buttarla giù e non è andata. Bravo! Ancora! Tocca il davanti! Via! Scusa! Scusa, eh! Scusa, eh! Scusa! Vai! Seconda! 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 Scusa! 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 Cazzo è vero è sempre lo stesso tronco Hai capito? Devi No non è duro va bene Scivola perché è bagnata Però devi dargli forte E' un po' dura Però devi dargli tanto Se no non salta su Funziona la luce bella Bello cazzo Forte devi dargli Se non gli dai forte non va su Va bene Non sono convinto Sai cos'è? Che lui la prende qua e dopo la gira fuori Invece io ho cercato anche di saltar su Ti frega dietro Un po' di tecnica Bravo Bravo E' la nostra prende dentro E' anche quella dopo è stupida E' allargarla molto bene E' la prova Grazie.